La sosta dovuta alle nazionali restituisce ad Ezerbi non solo i vari convocati, ma anche due giocatori sui quali il tecnico non aveva ancora potuto contare. Quaison e Raikovic, pienamente recuperati, puntano a entrare in pianta stabile nelle gerarchie del tecnico. Lo svedese potrebbe essere la spalla ideale di Nestorovsky, un po' come accade per Pandev con la nazionale macedone, rimpolpando così il reparto offensivo rosanero che nelle ultime giornate ha visto come effettivi solo diamanti e appunto il centravanti. Raikovic è invece atteso con ansia dall'allenatore che ha più volte evidenziato come sia l'unico mancino naturale del reparto arretrato. Il rientro del giocatore serbo potrebbe aiutare pure Posavec, dandogli un'altra opzione per impostare l'azione da dietro. Intanto Dezerbi, in vista del match col Torino di lunedì prossimo, si cimenta nella soluzione di un altro problema, la sostituzione dello squalificato Gazzi. Il centrocampista ex Granata dà un apporto di corsa difficilmente guagliabile. I candidati alla sua sostituzione sono Zajalo, Ilyamark e Ciocev, con questi ultimi che sono stati spesso avanzati sulla linea dei trequartisti insieme a Diamanti. Il tecnico ci ragionerà su ancora un paio di giorni. Intanto si gode il rientro dei nazionali che insieme al progressivo svuotamento dell'infermeria gli consentirà per la prima volta di lavorare a ranghi completi già da oggi e di ragionare al meglio sulla formazione da opporre al Toro di Mijailovic.